Perché la cannuccia all'interno di un bicchiere d'acqua sembra spezzarsi? Possiamo affermare che si tratti di un'illusione ottica. Vediamo perché. Il raggio che parte dalla cannuccia, passa attraverso il bordo del liquido e raggiunge i nostri occhi, viene deviato per una legge fisica, la legge della rifrazione. Infatti, se un raggio luminoso passa da un mezzo più denso, come l'acqua, a uno meno denso, come l'aria, viene deviato. Il risultato è che ciò che vediamo è questa parte di cannuccia immersa in aria e la deviazione del raggio luminoso della cannuccia immersa in acqua. E ciò fa sembrare questa cannuccia spezzata.